In Abruzzo sono riprese da oggi, dopo lo stop di Ferragosto, le vaccinazioni anti-covid in vista della riapertura delle scuole e non solo per questo motivo, negli hub vaccinali proseguono le somministrazioni agli over 12. Questa mattina al Palafiere di Via Tirino a Pescara c'erano molti giovanissimi accompagnati dai genitori che hanno deciso di far vaccinare i figli per consentire loro di avere Green Pass e poter accedere liberamente a strutture sportive, a scuole e luoghi di aggregazione. Non è che abbiamo deciso, è che per la scuola hanno scritto che bisogna farlo per forza e quindi io per farlo rientrare a scuola, fare il studio da cerbo e poi anche per lo sport, perché lui fa atletica leggera, hanno deciso che bisogna estendere questa vaccinazione anche ai ragazzi. Ci sono anche genitori che ritengono importante la vaccinazione quale strumento efficace per combattere la pandemia. Intengo sia giusto perché è l'unico modo per poter venire fuori da questa situazione. E al Paladanelli erano presenti anche diversi giovani stranieri che credono nell'efficacia dei vaccini. Da dove arrivi? Vivo a Città Sant'Angelo. Però da dove provieni? Città Nigeria. Da quanto tempo sei qui in Abruzzo? Sono qua da quattro anni. Ti sei già vaccinato? Sì, sì, ho fatto. La prima o la seconda dose? Ho fatto solo l'unico perché ho avuto Covid. Fino a questo momento tutto procede regolarmente e speditamente? Sì, vengono accompagnati i genitori, tutto procede nella norma, tutti quanti contenti per il servizio che viene dato da questo palavaccini, tutto quanto nella norma senza problemi. L'apertura solo di mattina? L'apertura solo di mattina, dalle otto e mezza alle quattordici, sabato e domenica chiusi sia mattina che pomeriggio. Intanto in provincia di Pescara è previsto un open day sabato 21 agosto ed è rivolto proprio agli over 12. Sarà possibile vaccinarsi al Palafiere di Pescara, al Paladin Martin di Montesilvano, nell'hub Val Pescara, nell'area dell'ex cementificio di Scafa, incontra da Campetto, nell'hub di Penne. Le informazioni sulle modalità per le prenotazioni online per gli over 12 si trovano anche sul sito internet di Rete8 all'indirizzo telematico www.rete8.it